Zip News.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News Sport. Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con il calcio al via la quattordicesima giornata di Serie A, tra poco alle 18.30. In capo il Napoli, che ospita l'Empoli alla stessa ora, spezia udinese, alle 20.45, Cremonese, Milan. Andando in casa della Juventus, Allegri recupera Predes, Ken, ancora parte Vlaovic, l'Argentino e l'Azzurro. Si sono allenati con il gruppo e tornano a disposizione per il match di giovedì con il Verona. La MotoGP a Valencia, dove domenica si è deciso il Mondiale MotoGP con la vittoria di Bagnaia. Primi test verso il 2023, il campione del mondo ha potuto provare la nuova Ducati, prima da pilota del team ufficiale per Enea Bastianini. E passiamo al tennis. A cinque giorni dall'avvio delle gare entrano nel vivo le Nitto ATP Finals di Torino in programma al Palpitour dal 13 al 20 novembre. Da ieri sono iniziati infatti gli allenamenti a porte aperte dei campioni sul training center del circolo della stampa Sporting, dove appassionati e curiosi possono già vedere l'opera in queste ore, ad esempio l'americano Fritz. E chiudiamo con il basket NBA, banchero super ma ancora KO, prima sconfitta per i Bucks, Golden State rinasce grazie a Kerry, Lakers nel baratro. È tutto, grazie per averci ascoltato in regia. Rosario Perez.